allora c'è un tipo che va in farmacia dice senta mi può dare uno scatolo di mi dica i di preservativi preservativi sì 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 ma c'è che misura vuole che misura vuole guardi non lo so quelli che ha ma ci sono le misure standard large small non lo so non lo so perché guarda la farmacista vieni vieni dietro vieni dietro bassi pantaloni bassi pantaloni bassi pantaloni gli prende il pisello in mano fa vediamo un po ci sta una prima dice la sua collega fa marie portami una prima marie una prima una prima sì sì una prima una prima ma madonna aspetta aspetta marie 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 perché qua l'affare si ingrossa aspetta aspetta porta una seconda marie porta una seconda una seconda sì 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 aspetta 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 marie prende la terza portami una terza marie una terza la terza marie si sì 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 ma spero spero la madre portami una quarta marie una quarta marie una quarta marie una quarta la mia una quarta marie aspetta 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 marie portano stracci marie aspetta 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 aspet